Il Partito Democratico fa il suo mestiere, io sono contento perché percentuali del genere mai nella vita li abbiamo avuti in Emilia-Romagna, ma aggiungo che il difficile per me e per noi viene adesso, perché io voglio assolutamente tornare in Emilia, battermi per l'esenzione fiscale per i terremotati e gli alluvionati, difendere gli ospedali di montagna che ci siamo impegnati a difendere, dare una mano ai balneari massacrati dalla direttiva Bolkenstein delle normative europee, quindi a uno può andare anche di fortuna una volta, magari siamo fortunati e poi però devi giustificarla questa fortuna e soprattutto io voglio parlare al due terzi degli emiliani e dei romagnoli che sono rimasti a casa, perché neanche il mio progetto evidentemente li ha convinti, quindi non voglio passare oggi la giornata dicendo che bello abbiamo tenuto il 20%, voglio capire perché in ogni caso anche in Emilia anche il mio messaggio non è passato, evidentemente non siamo ancora abbastanza credibili, abbastanza concreti e quindi dobbiamo fare di più.